Ilì ha bloccato e adesso Lovricio può mandare in campo aperto Amura Amura, ottimo il controllo a seguire, Amura la ponte vuota Amura, vai da lungo, la piazza è 2-0 a 8 minuti dalla fine Grandissima, grandissima azione in contropiede Lugano E la perfezione di un contropiede che possa essere lo stato Ebbè qui è stato bravissimo Amura Veramente con la sua velocità a superare il difensore e poi il portiere Io ho detto no perché mi sembrava che avesse colpito, cacciato male Che andasse fuori il pallone Però qui bravi, veramente, sono stati bravi a soffrire Vero che non è ancora finita ma ancora 8 minuti più recuperi Però sono queste le situazioni che devi sfruttare Ah bravissimo, molto bravo Molto bravo